torna la rapper bitontina francesca ricciardi in arte cecca con il nuovo singolo is my she la traccia prodotta e missata da walino è un connubio di allegria e ironia con le quali la 29enne esprime il suo messaggio sino a farlo diventare un mode uno stile di vita sono di bitonto is my she e così che cerca non fa mancare il riferimento orgoglioso alle sue origini bitontine all'interno del testo del suo singolo lo stesso è veicolato anche dal festoso e colorato videoclip disponibile su youtube e realizzato da domenico lamanna protagonista la stessa rapper truccata da alessandra centrone siete sempre soddisfatti di ciò che siete realmente e delle persone che vi circondano con amore quello vero è il commento con cui la bitontina ha presentato sui social il suo singolo che sicuramente non sarà l'ultimo infatti ha già annunciato che il suo viaggio non si fermerà di certo qui e che già lavoro per altre sorprese e